Al termine di una partita veramente molto molto combattuta passa l'Olanda che in finale di Nations League affronterà il Portogallo Buongiorno ragazzi sono Simon Signo giallorosso e da oggi voglio parlarvi di quest'altra semifinale Ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simon Signo trattino basso giallorosso È stata una partita veramente molto equilibrata, entrambe le squadre hanno giocato sul filo del rasoio per non rischiare di prendere gol Ma alla fine tutte le reti sono arrivate dopo errori clamorosi dei difensori L'ultima dopo un errore di un centrocampista ma la differenza è veramente poca Il primo errore lo compie forse l'uomo più atteso dalle parti di Amsterdam ovvero De Ligt Che dopo uno stop impreciso si vede costretto a dover falciare Rashford e quindi a concedere anche di fatto il calcio di rigore all'Inghilterra Rigore trasformato dallo stesso esterno dello United Si va quindi 1-0, vantaggio che viene mantenuto per tutto il primo tempo Nonostante l'Olanda qualcosa di più lo meritasse Pickford comunque ha fatto un paio di belli interventi Oggi Pickford forse è migliore in campo per gli inglesi Insieme attenzione a Rice che mi è piaciuto veramente veramente tanto Un giovane di cui vi ho sempre parlato anche quando quest'inverno ha giocato contro l'Arsenal Ha segnato il suo primo gol in Premier League E mi è piaciuto parecchio anche lo stesso Rashford Però poi i problemi fisici diciamo che hanno condizionato la sua partita Nel secondo tempo comunque la partita rimane sempre equilibrata L'Inghilterra è tutta attrazione posteriore quindi si difende parecchio Ma poi alla fine arriva la svettata di Nelict che con un colpo di testa precisissimo si fa perdonare Ma qui l'errore è in fase di marcatura e lo compie Stonze Partita disastrosa la sua come spesso vi capita purtroppo in Nazionale Mi dispiace perché comunque il potenziale ce l'ha Ma spesso soprattutto il primo anno al CD ha sbagliato tantissimo E sta sbagliando tanto anche con la Nazionale Si va dunque ai supplementari in cui c'è un altro errore clamoroso sempre di Stonze Questa volta un dribbling mal riuscito ai danni dell'avversario che tira di prima Pickford è perfetto diciamo nella rispinta Ma poi arriva Promise che sfruttando anche un'indecisione di Walker Spinge il pallone oltre la linea di porta Diciamo che è un autogol clamoroso di Walker Non diciamo un tiro di Promise Però attenzione perché l'esterno del Sevilla si rifà poco dopo segnando un gol Qui l'errore è di Barclay Diciamo che l'Inghilterra è passata dalle stelle alle stalle Perché a pochi minuti dal termine circa l'ottantatreesimo Poteva addirittura vincere la partita Aveva segnato il gol dopo un'azione perfetta Sottolino perfetta Ma poi per fuorigioco millimetrico di Lingard Gli viene annullato tutto Si va a supplementare e forse anche questo è pesato È pesato il contraccolpo psicologico che gli uomini di Southgate hanno subito Che si dovranno accontentare della finalina contro la Svizzera Mentre ci sarà domenica sera Portogallo-Olanda Per decretare il vincitore di questa Nations League Vi ringrazio e vi ricordo che potete lasciare un mi piace un commento e un'iscrizione al canale Ciao a tutti